Cari amici, nel 2015, come voi sapete, bisogna ragionare in maniera diversa per quanto riguarda l'energia. Molto è stato fatto in questi anni, c'è un'assessibilità maggiore da parte dei cittadini, però l'energia alternativa, l'energia data, prendendola direttamente dal sole, sarà l'energia vincente dei prossimi anni. Ricordatevi che il Presidente Obama diceva proprio di recente, quando è venuto in Italia, che la sua preoccupazione maggiore era quella di cercare di studiare un sistema, di produrre leggi che pongono l'energia alternativa come momento essenziale non solo di sviluppo, ma della stessa sopravvivenza dell'uomo. Vedete questa casetta alle mie spalle? Questa casetta è stata costruita appositamente da Unendo Energia Italiana, un'azienda leader in Italia nel settore di energia alternativa, perché vuol dimostrare attraverso la mancanza dell'energia tradizionale, perché qui il trifase è completamente staccato, ma tutti gli etrodomestici che sono presenti funzionano ugualmente. Voi mi direte ma cos'è il miracolo di Alibaba? No, è un miracolo fatto da questo oggetto che è il QQ, è un accumulatore di energia che fornisce l'energia alternativa che viene accumulata durante il giorno grazie proprio al sole attraverso i pannelli solari. Bene, pensate che qui abbiamo acceso parecchi elettrodomestici, il frigorifero, la lavatrice, l'aspirapolvere, il ferro da stiro. Quante volte in casa abbiamo messo in movimento tutti questi elettrodomestici e a un certo punto è un classico, la corrente è saltata. Bene, attraverso il QQ è impossibile, perché il QQ fa la vece dell'energia tradizionale. Guardate, è una cosa che sorprende, ma oggi la tecnologia, le nuove tecnologie sono arrivate al punto per cui non abbiamo più scuse. Bisogna usare l'energia alternativa. Il QQ, lo ripeto, è un accumulatore di energia che voi potete tenere a casa vostra, che cattura durante il giorno l'energia solare e la mette a vostra disposizione e a disposizione di tutta la casa, per l'uso domestico e perché no, anche per donare l'eccedenza, quindi per vendere l'eccedenza di energia. Semplice, verde, meno cara e qui ne va davvero del futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ricordatevi, unendo energia italiana non è uno spot pubblicitario, non è una telepromozione, ma solo il modesto desiderio di spiegarvi che oggi non abbiamo più scusanti. Dobbiamo essere cittadini, onesti, tutelare la nostra salute, tutelare lo sviluppo del mondo. Fatelo, QQ, ricordate, unendo energia italiano più semplice, più verde, meno cara.